Arretramento ferrovia solo a Pesaro, la regione chiede confronto col ministro. Profugi ucraini 3.700 quelli arrivati nelle Marche. Ladri scatenati, continuano i furti d'auto a Pesaro. Finisce lo stato d'emergenza Covid, ecco come cambia il Green Pass. Dalla malattia alla campagna ProAil, la battaglia di Veronica. Buonasera a tutti voi amici e amici di Rossini TV, ben ritrovati ad una nuova edizione di Rossini News, il nostro telegiornale che in questa edizione di mercoledì 30 marzo apriamo occupandoci del tema del potenziamento della ferrovia adriatica. Oggi c'è stato un importante incontro in Regione Marche con tutti gli amministratori delle città costiere coinvolte dalle intenzioni delle ministero per quello che riguarda il potenziamento della linea ferroviaria adriatica Bologna-Taranto. Intenzioni che di fatto accolgono il progetto di arretramento della ferrovia a Pesaro ma lasciano preoccupata buona parte del resto della Regione. Il Ministero delle Infrastrutture ha ufficialmente detto sì all'arretramento della ferrovia nel comune di Pesaro destinando una fetta dei 5 miliardi stanziati. Ma il cosiddetto bypass che allontanerebbe i binari dalla costa in cui il sindaco Ricci punta a creare un passante verde si fermerebbe a Fosso Seiore. Ricci infatti applaude a una svolta storica che cambierà il profilo della città ma auspica di poter includere anche i comuni limitrofi in una visione strategica più funzionale. Già perché ad oggi il Ministero ha rifiutato la proposta di includere nell'arretramento anche il tratto ferroviario compreso fra Fano e Mondolfo perché è reputato non necessario al potenziamento dell'alta velocità e dell'aumento del carico merci. Idem per diversi altri comuni delle altre province marchigiane che vedono bocciata l'idea dell'arretramento. Questo è quanto emerso oggi dall'incontro in Regione fra il Governatore Acquaroli e l'assessore all'infrastruttura Francesco Baldelli che hanno accolto sindaci e amministratori di tutta la costa marchigiana coinvolta dagli oltre 5 miliardi investiti dal Governo per potenziare la linea ferroviaria Bologna-Taranto. Scelte che lasciano perplessi tanti amministratori a cominciare dai sindaci di Fano e Mondolfo, Massimo Seri e Nicola Barbieri che invocano una visione condivisa fino ai vertici della Regione che chiedono un incontro col Ministro Giovannini invitandolo nelle Marche a valutare la specificità dei territori. Noi dobbiamo restare agganciati nel dialogo istituzionale perché sono convinto che il Ministro e il Ministero saranno anche aperti a comprendere quelle che sono le legittime preoccupazioni. Mai mi è capitato in un percorso politico che ormai comunque io svolgo da qualche anno di vedere l'unanimità di una riunione che coinvolge tutti i sindaci partendo da Gabiccio arrivando a San Manetto del Tronto. Questo significa che la mia non era una preoccupazione, la nostra non era una preoccupazione avventata ma è una preoccupazione condivisa da tutte le comunità. A preoccupare è soprattutto il fatto che il potenziamento della linea comporterebbe un vertiginoso aumento di treni merci reputato insostenibile sulle linee ferroviarie attuali. La stima è di avere 176 treni merci in transito ogni giorno, ovvero un treno ogni 8 minuti per 52.000 treni merci l'anno. È chiaro che chi compie una scelta da una visione non centrale, da una visione non condivisa del territorio può fare una scelta che a volte non è comprensiva di tutte le sfaccettature che invece noi viviamo. L'impatto di una linea ferroviaria o meglio di un traffico ferroviario merci così forte sul nostro territorio può sicuramente essere rilevante sotto l'aspetto della vocazione turistica, della vocazione commerciale e della vocazione residenziale di tantissime delle nostre città. Il punto di equilibrio è nel cercare di comprendere che non si può far passare in una linea ferroviaria costruita nel 1800 per il traffico passeggeri e merci, il traffico che nel 2022 fino al 2040-2050 dovrà essere garantito per tenere il Mediterraneo e l'Italia e l'Europa agganciate al mondo. È chiaro che se si vuole coinvolgere in questi territori, in questa linea, quel tipo di traffico bisogna adeguare la linea affinché possa essere compresa in una visione che tiene conto dei posti dove questa linea oggi è ubicata. Rispetto alla possibile ricollocazione della linea adriatica, che è quello che noi chiediamo, e noi vogliamo ascoltare i tecnici e il Ministero, non abbiamo una soluzione precostituita. Quello che vediamo è che il numero di treni che oggi è previsto e il numero di treni che è previsto in futuro va a confliggere fortemente con le nostre località turistiche, balneari, con le nostre città che sono dislocate lungo la costa. Il sì della regione a potenziare la linea ferroviaria attraverso l'arretramento è contestuale al secco no alle barriere antirumore. Io credo che la barriera antirumore diventa in questo caso un muro che divide le città, è un muro che divide le città e che ne stravolge la conformazione anche dal punto di vista climatico. C'è una preoccupazione profonda perché poi queste barriere sarebbero molto impattanti, parliamo di barriere alte 6 metri e mezzo, 7 metri, 8 metri, sono molto più alte della media delle abitazioni che poi ne abbiamo nelle nostre città dislocate sulla costa. Sono quasi 3.700 di cui 1.700 minori i profughi ucraini giunti finora nelle Marche attraverso i canali delle prefetture. Il dato è emerso ieri dal comitato di accoglienza Marche presieduto dall'assessore alla protezione civile Stefano Guzzi. Si entra ora in una nuova fase dell'accoglienza perché la protezione civile si sta attivando per contrattualizzare alcune strutture alberghiere disponibili tra quelle segnalate dalle associazioni di categoria che possono eventualmente ospitare i profughi che non hanno la possibilità di sestimazione presso parenti o altri centri di accoglienza. Al momento sono 12 gli alberghi di Pesaro che hanno dato disponibilità ad ospitare profughi. Continuano i furti d'auto a Pesaro. Dopo quelli che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane in zona mare e anche qualche giorno fa per quello che riguarda zona Pentagono e Celletta, la banda di ladri ha agito ancora. L'altra notte infatti sono sparite altre due macchine, una Golf in via Perosi, zona Villa San Martino e un'Audi A3 in via Isonzo, zona Tombaccia. Indagano i carabinieri già alle prese in questa settimana con una lunga lista di sparizioni come marmitte, centraline e tentativi di furto, soprattutto a danno delle utilitarie. E domani 31 di marzo sarà l'ultimo giorno di emergenza pandemica Covid-19 in tutta Italia. Da venerdì 1 aprile si allentano infatti diverse regole della nostra quotidianità, soprattutto per quel che riguarda l'obbligo di Green Pass base e rafforzato. Vediamo che cosa cambia in questo servizio. Il 31 marzo in tutta Italia cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Le Marche si avviano alla nuova fase con numeri dell'epidemia che da cinque giorni hanno preso la piega di una nuova flessione che ha silenziato una precedente timida risalita. Parametri inferiori rispetto alla settimana precedente, ricoveri in terapia intensiva circostanziati ad una decina di casi e un fardello di decessi che dopo 26 mesi di pandemia si attesta a più di 3.700 marchigiani venuti a mancare. Al di là dell'obbligo di mascherina che continuerà a mantenersi, da venerdì 1 aprile decadono invece diverse limitazioni all'uso del Green Pass. A cominciare da bar e ristoranti. Da venerdì non ci sarà più bisogno di alcun documento per sedersi all'aperto e ordinare da mangiare o da bere. Il decreto ha previsto invece che per consumare all'interno di ristoranti e bar resti necessario il certificato verde base, quello che si ottiene con la vaccinazione, la guarigione oppure con un tampone negativo. Diciamo che il cambiamento vero e proprio secondo me sarà del 1 di maggio in cui diciamo che secondo la gazzetta ufficiale Tanna libera tutti quindi non c'è più bisogno di nessun Green Pass, non c'è più bisogno di mascherina all'aperto e al chiuso e quindi lì veramente sarà la svolta. Però diciamo che in questo mese di transizione già non avere più il Green Pass rinforzato ma solo il tampone può bastare per andare a cena può darsi che qualcuno possa in più possa portare ai nostri ristoranti. Dal primo aprile diventa libero anche l'ingresso negli alberghi e in ogni altra struttura recettiva. Si potrà prenotare e alloggiare in camera d'hotel senza alcun Green Pass. Non si potrà invece accedere alle palestre, alle piscine, alle spa degli hotel senza il certificato rafforzato nemmeno se si è clienti dell'albergo. Cambia parzialmente anche l'accesso nei cinema e teatri dove è nuovamente consentito il consumo di cibo e bevande nonostante per accedere dal primo aprile servirà ancora il Green Pass rafforzato con obbligo di mascherina FFP2. Dal primo aprile cambiano anche le regole per entrare nei negozi dei centri commerciali. Non servirà più il Green Pass ma l'accesso sarà consentito a tutti. Svolta anche dal primo aprile per parrucchiere, barbieri e centri estetici. I titolari non dovranno più chiedere di esibire il Green Pass ai clienti. Fino al prossimo 30 aprile resta invece in vigore l'obbligo di Green Pass rafforzato per accedere a palestre, piscine e centri benessere. Allargando il tiro per l'accesso ai luoghi di lavoro per titolari e lavoratori fino al 30 aprile sarà sufficiente il Green Pass base. Fino al 15 giugno invece per tutti gli ovvero 50 resta la regola generale dell'obbligo di vaccinazione. E tra le attività che in questi mesi sono state interessate dal Green Pass e anche da diverse limitazioni ci sono sicuramente le palestre. Fra i settori più in difficoltà nell'emergenza Covid ma c'è anche chi ha avuto il coraggio di aprire un nuovo centro sportivo in piena pandemia. Ancora pochi giorni si sta per chiudere lo stato di emergenza di pandemia del quale hanno sofferto tante attività. Le palestre sono una delle categorie che ha sofferto di più in questo senso ma c'è chi come Caterina Dini ha avuto il coraggio, la sfrontatezza, non so come chiamarla, di aprire questa attività proprio in questo periodo. Sicuramente coraggio e la sfrontatezza perché diciamo che il mio progetto nasceva alla fine del 2019 e ho deciso comunque di portarlo avanti perché ho sfruttato anche il discorso dell'allenamento personalizzato e del fatto che io lavoro principalmente con il one to one. Inevitabili le difficoltà in questo periodo con tante applicazioni di regola a cui nessuna attività di questo genere abituata. Sì diciamo che per la persona capire il contesto centro personal training all'inizio è un po' difficile perché ovviamente il costo e la qualità del servizio sono diversi da quelli di una palestra però è anche vero che poi pian piano facendo conoscere, apprezzare il fatto che la persona si sente seguita, ha tutto un percorso dove vede insomma progressi e risultati che va a fare, alla fine comprende quello che è il valore di quello che offro diciamo. Conosciamo un po' meglio anche le attività del fitness studio di Caterina Dini che si trova in zona Tombaccia in Via Lugo. Allora nel mio fitness studio si parte da una prima consulenza conoscitiva che al momento è gratuita dove la persona viene e mi dice l'obiettivo. Tra i vari obiettivi ci sono ricomposizione corporea e dimagrimento anche specifico per il target over 50 che è solitamente quello che si approccia un po' di meno alla palestra perché ha paura di non essere all'altezza, powerlifting e natural bodybuilding di cui io sono anche atleta e con i quali ho creato la squadra powerbuilding Marche. Poi la rieducazione motoria che è un percorso post fisioterapia e della ginnastica posturale proprio specifica dove praticamente cerchiamo anche di affrontare problematiche non operabili sotto prescrizione anche del medico. In questo mese di marzo Pesaro non ha solo vinto il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024 ma anche quello di Città dei Giovani 2022. Un altro prestigioso riconoscimento nazionale che approfondiamo in questa intervista all'assessore Mila Della Dora. Un bel riconoscimento per la nostra città appunto che arriva dopo Capitale Italiana della Cultura 2024. Questo sarà Città Italiana dei Giovani 2022. Per il secondo anno consecutivo avevamo tentato di ottenere questo riconoscimento, eravamo arrivati in finale l'anno scorso e quest'anno e quest'anno ci ha visto vincitrici. È un processo che è iniziato tra la gente e con la gente perché abbiamo coinvolto i giovani del nostro territorio, le associazioni, le associazioni giovanili di volontariato per avere il proprio contributo su quelle che erano le azioni che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto mettere in campo in questa progettualità. Non si parlava di essere una città con discoteche, locali da ballo, non era questa la finalità del progetto. Doveva essere un progetto inclusivo e replicabile anche in altre città d'Italia. Noi abbiamo scelto nel progetto la creazione di un network, di un network che mettesse insieme diverse realtà del nostro territorio, che fosse un network permanente, una sorta di tavolo di lavoro, che potessero aiutarci a mettere in campo quelle che sono una serie di azioni per i giovani. Abbiamo ipotizzato diverse iniziative, diversi convegni che si svolgeranno nel 2022 legato alla violenza di genere, legato all'inclusione sociale, al disagio giovanile, a quelli che sono stati anche gli effetti della pandemia. Avremo sicuramente un testimonial che non voglio anticipare oggi, che è un esempio secondo me anche di forza con i giovani, una persona che è un esempio non solo per i giovani ma anche per gli adulti. Non posso anticipare il nome perché poi verrà svelato nei prossimi giorni. All'interno di questo progetto c'è anche la costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, è in fase di progettazione e penso che nelle prossime settimane verrà anticipato anche questo. Quindi diciamo una serie di iniziative in cui vedranno i giovani protagonisti sia sulle tematiche sia sulla scelta dei relatori dovranno essere anche loro bravi a coinvolgere le altre persone. Quello che era emerso negli incontri che avevamo fatto con loro è il fatto di non avere la consapevolezza di quello che accadeva in città e quindi proviamo a comunicarlo anche attraverso i loro canali. Però la cosa fondamentale era quello di ritornare a fare rete ed essere in rete con i giovani e con la comunità è anche fra di loro. Ed ora qualche appuntamento a cominciare da teatri d'autore, la stagione di prosa nei teatri storici della provincia organizzata da Amat che prosegue domani 31 marzo al teatro Angel dal Foco di Pergola con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti che porteranno sul palco lo spettacolo Parlami d'Amore con il sipario che si aprirà alle ore 21. A San Costanzo invece sabato 2 aprile arriveranno Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo che si esibiranno in Songs in a Conversation un omaggio a Nick Drake a 50 anni dall'uscita del suo ultimo lavoro discografico Pink Moon, concerto che andrà in scena alle 21 e 15. E invece domani giovedì 31 marzo nella chiesa Santa Maria Assunta di Montecchio si svolgerà un concerto per ricordare e omaggiare il compianto Franco Bezziccheri scomparso la scorsa estate. Concerto che viene celebrato nel giorno del suo compleanno. Bezziccheri era infatti una persona molto nota e attiva in diverse iniziative e associazioni nel territorio di Vallefoglia come l'Avis, la proloco e il coro San Carlo. L'ingresso al concerto sarà libero ma chiunque vorrà fare una donazione potrà farlo domani sera all'Associazione Africa Mission. Ed ora parliamo di una bella storia di battaglia contro la malattia trasformata in uno strenuo impegno rivolto alla ricerca scientifica. Negli studi di Rossini TV infatti abbiamo avuto come ospite Veronica Lisotti, allenatrice di calcio e giornalista sportiva che ha lanciato la campagna Never Give Up, mai arrendersi a sostegno dell'AIL. Veronica Lisotti, allenatrice, giornalista sportiva, anche ex volto di Rossini TV addosso alla maglia Never Give Up che è il risultato di un lungo percorso tortuoso ma importante che è sfociato in una campagna, in una campagna informativa e a sostegno di una buona caula. Esatto, esatto. Never Give Up è la campagna solidale che ho creato assieme a Retrobotega di Riccione, lo showroom che ha creato queste magliette che potete vedere e soprattutto insieme all'AIL di Piesio e ringrazio il presidente Massimo Sierra per il suo contributo. Queste sono magliette che generano un inno alla vita. Il mio percorso nel 2021 purtroppo è stato interrotto da un linfoma big gray aggressivo, sono stata curata presso l'ospedale di Muraglia dall'equip del dottore Giuseppe Visani che ringrazio di cuore, di ematologia e anche radioterapia e alla fine di questo percorso ho pensato di creare qualcosa non solo per me ma anche per gli altri, diciamo, un nuovo mood di speranza, di voglia, di voglia di vivere, di voglia di credere, di anche cadere nella vita perché capita, però comunque rialzarsi sempre. E così è nata Never Give Up, insomma, questa maglietta che potete acquistare nello showroom di Retrobotega di Riccione oppure attraverso la mia pagina Facebook o Instagram oppure potete recarvi direttamente all'Aile di Piesero. Ovviamente il ricavato andrà proprio alla ricerca, quindi all'Aile di Piesero. E a fine mese, poi a fine maggio, faremo un'asta benefica perché infatti abbiamo la fortuna di avere alcuni testimonial che hanno sposato la nostra causa di cui siamo davvero molto molto felici e che ringrazio davvero di cuore come tutte le persone che stanno acquistando le nostre magliette. E quindi continuate a seguirci ovviamente sui nostri social e poi ovviamente Never Give Up sempre, quindi non vogliamo mai nella vita, nelle sfide di ogni giorno. Io la mia partita l'ho vinta, però cerchiamo insomma tutti i giorni di vincere ognuno di noi nel nostro piccolo la nostra partita. Molto gratificante, devo dire. Mi sento molto onorato di aderire a questa campagna della Veronica, una ragazza speciale che io già conoscevo da tempo, ma chi è che non la conosce la Veronica, mi è entrata nel cuore quando mi ha chiesto di fargli una t-shirt per lei perché è stata molto brava che ha vinto la sua battaglia, per me è stato onore fargliela e poi ci è venuto in mente di fare attraverso questa maglia una bella raccolta di beneficenza in favore dell'Aldi Pesaro e da lì è nato tutto e ci stiamo veramente impegnando per far sì che tantissime persone abbiano il loro contributo che è importante per la ricerca dell'Aldi Pesaro del Presidente Sierra. Ecco qua. E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21.20 è dedicata ai motori. Infatti andremo a conoscere il team MR Racing che da questo weekend parteciperà al campionato italiano in velocità moto 3 appuntamento dunque alle 21.20. E poi domani giovedì è la serata di insieme a Canestro come sempre in diretta alle 21.20. Andiamo a vedere quali sono gli ospiti della puntata di domani ovvero la guardia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Matteo Tambone e l'ex giocatore della VL Federico Pieri appuntamento appunto domani alle 21.20. Ancora sport su Rossini TV lo sport in diretta quello del calcio a 5 che torna sabato 2 aprile alle 18 con la partita dell'Ital Service in trasferta in casa dell'Olympus Roma dunque partita in diretta assolutamente da non perdere sabato 2 aprile. Diretti di Rossini TV anche per quello che riguarda le sante messe appuntamento fisso ormai di ogni domenica mattina in questa domenica 3 aprile alle 11 e un quarto le nostre telecamere si accenderanno per la funzione della Santa Messa celebrata alla parrocchia di San Pietro in Calibano a Villa Fastigi. E dunque tanti appuntamenti su Rossini TV che vi invitiamo a seguire sul nostro canale 80 come vi invitiamo a seguire ora le previsioni del tempo e a me non resta altro che salutarvi e augurarvi una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV.